Catarina, un ricorso al TAR che sembra più da prevenire altre eventuali situazioni un po' particolari? Sì, allora naturalmente il ricorso va a incidere specificamente su quel documento emanato che evita la procedura di valutazione di impatto ambientale nella nota vicenda del pirogassificatore della cartiera di San Giovanni di Duino. E' un messaggio in senso lato, nel senso che noi saremo sempre presenti sul territorio a raccogliere le istanze e uno dei modi di raccogliere le istanze dei cittadini è quello di proporre ricorso al TAR verso queste decisioni. Senti, ti hai detto, la Regione può anche in autotutela ripensarci? Allora, al 24 gennaio, quando è stata presa questa decisione, non c'erano ancora tutti gli elementi che successivamente sono sono pervenuti, sono emersi anche se vogliamo a livello di crisi occupazionale, crisi da un punto di vista delle commesse dell'impianto naturalmente premettendo la più totale solidarietà ai lavoratori della cartiera noi riteniamo che in questo momento la Regione avrebbe delle ottime motivazioni per eventualmente rievocare in autotutela il documento. Pin che è consigliere comunale a Amon Falcone, ma soprattutto tecnico, questo ricorso al TAR che cosa rappresenta per la comunità dell'area di Duino, ma che cosa potrebbe rappresentare per Amon Falcone visto che almeno a livello di proiezione le polveri arriverebbero quasi tutte proprio sul territorio amonfalconese? Beh, è un'occasione unica per discutere in maniera comprensiva tutte le emissioni che abbiamo sul nostro territorio e le loro emissioni, le loro ricadute in un'area di cui la cartiera Burgo fa parte, è parte integrante ed è la zona, non solo la zona industriale ma tutto l'ambito territoriale dei nostri comuni. Come ritiene, secondo lei le amministrazioni comunali avrebbero dovuto sposare questo ricorso oppure no? Come vede la posizione delle amministrazioni comunali di Mon Falcone e di Duino Resina? Ma personalmente io sono presidente della Commissione Ambiente, ma al netto di questa carica protempore io penso che nessuno è sopra la legge e nel senso andava fatta la valutazione di impatto ambientale perché è una garanzia non solo per gli amministratori ma anche per tutto il territorio.